Le preoccupazioni sollevate dal Forum per la Sanità Pubblica sull'organizzazione del piano sanitario della Regione sono state fatte proprio dal Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Michele Durante, il quale ha scritto al Governatore e Commissario ad Acta Frattura, in sostanza il punto è la rete clinica di assistenza a pazienti con patologie legate al tempo. Ha riportato le preoccupazioni evidenziate dal Forum sugli aspetti critici del protocollo di accesso al Cardarelli come hub regionale e quindi trasferimenti dei pazienti da e verso la Fondazione Giovanni Paolo II, Cardiologia e Chirurgia e il Neuromed, Neurologia Neurochirurgia. Quello che si è rilevato è la difficoltà a prendere in carico il paziente in tempo e nel luogo più appropriato considerata la gravità della patologia. Per arrivare in particolare a Pozzilli il tempo di trasferimento metterebbe a rischio l'efficacia di un eventuale intervento chirurgico se non addirittura la sopravvivenza del paziente. Non si mette in discussione la qualità dei servizi delle due strutture private ha scritto durante accreditate e convenzionate con la regione ma è evidente che i Campobassani non hanno oggi la certezza del loro diritto alla salute se colpiti da eventi neurologici o cardiaci gravi. In Molise in generale ha continuato nessuna struttura in grado oggi di accogliere un paziente cardiopatico colpito da evento neurologico non essendo alcuna realtà clinico-sanitaria regionale in grado di offrire le due specializzazioni contestualmente. Michele Durante ha quindi evidenziato a fratture al Consiglio di Palazzo Daimmo che è dovere dell'intera classe dirigente regionale permettere ai cittadini di avere le stesse possibilità di altri italiani in altre aree del paese di sopravvivere a eventi neurologici e cardiaci anche se gravi. Questo ha aggiunto il presidente del Consiglio Comunale di Campobasso attraverso una diagnosi immediata sul posto grazie ad apparecchiature mobili di nuova generazione fino al trasferimento nelle sedi delle prestazioni chirurgiche con elitrasporto o servizio equivalente. Durante ha quindi chiesto a frattura di adottare i provvedimenti necessari e urgenti per ristabilire per i cittadini di Campobasso e del Molise il principio di garanzia del diritto alla salute e di cure mediche più immediate e appropriate attraverso il servizio sanitario regionale.